L'Unione torna al successo dopo quattro sconfitte consecutive. Una vera e propria boccata d'ossigeno davanti al pubblico amico dello Stadio Rocco e un'iniezione di fiducia per il nuovo corso targato Pavanel. Tre punti conquistati con sudore e fatica dovendo resistere agli assalti finali di un Mantua che ha fatto il possibile per non andarsene da Trieste con una sconfitta. Ma il 2-1 finale è forse il risultato che spingerà ancora di più i rossolabardati a guardarsi dentro e a capire che si tratta solo di un punto di partenza. L'Unione parte a quattro in difesa con Ciofani e Sarsi Puttini terzini, Di Gennaro e Sottini centrali. A centrocampo ci sono Gori e Pezzella, sulle fasce Paganini e Felici, Gantz e Minesso i due attaccanti. L'undicino strano questa volta sventa subito un pericolo sulla conclusione dell'ex Mensa. Al quindicesimo però la Triestina passa in vantaggio. Il cross di Paganini trova nel tocco di piedi del difensore quel pizzico di fortuna necessario per concretizzare il vantaggio. Finalmente si esulta sull'erbetta nostrana, finalmente l'atmosfera carica la squadra nella maniera giusta. Un'energia travolgente che, guarda caso, si traduce nel raddoppio cinque minuti più tardi. Cross di Felici ed incursione Felina di Gantz che spiazza il portiere avversario. Il 2-0 siglato dal centro avanti è una sorsata d'acqua fresca che dà corpo alla fiducia di cui questo gruppo aveva dannatamente bisogno. L'inevitabile reazione del Mantova arriva nel secondo tempo, ma anche questo fa parte di quel percorso di risultati attraverso la sofferenza che, in questo particolare momento, sono un balsamo curativo per i mali dell'Unione. In un paio di occasioni ci pensa Pisseri a sventare i pericoli dalla porta e le sostituzioni non cambiano in modo sostanziale gli equilibri della gara. All'ottantottesimo però è con una spina nel fianco che l'Unione deve aver cura di togliersi senza farsi troppo male. Il contatto fra Sottini e Rodriguez frutta un rigore agli ospiti. L'attaccante del Mantova segna e per tutto il successivo recupero si tratta di soffrire alla vecchia maniera. Brivido finale quando Ceresoli colpisce il palo, poi solo applausi sotto la curva e un percorso calcistico che ricomincia da questa strana bella giornata d'estate di fino a ottobre.